Venerdì 22 febbraio alle ore 18 presso la sala consigliare grande nella frazione Santa Maria di Castellabate si terrà l'incontro di presentazione del corso gratuito di autodifisa femminile urbana. Nel corso dell'incontro interverranno Luisa Maiuri, vice sindaco del comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli, assessore alle politiche sociali e pari opportunità, e Danilo Salvatori, responsabile tecnico UDS. L'evento è organizzato dal comune di Castellabate in collaborazione con l'Accademia UDS Salerno. I corsi avranno inizio venerdì 1 marzo dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la palestra della scuola media Luigi Guercio. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi all'ufficio politiche sociali o inviare un'e-mail a servizi sociali chiocciolacomune.castellabate.sa.it oppure chiamare al numero 0974 96 01 47.